Clementina mi ha chiesto più volte di andare a trovarla, ma non ho mai ricevuto nulla. Oh mio Dio, fantasma! Credevo non l'avresse più qui! Clementina, ho appena scoperto che c'è stato un blackout generale della rete. Ma adesso che ci sei tu, nel rifiuto ti aiuto. Ti lascio le chiavi del bar. E invece tu, da quando hai fatto la denuncia, hai delle novità? No, ma prima mi aveva avvisata. Per queste cose ci vuole tanto tempo, fortunatamente. Lo sai, io non te l'ho detto, ma anche io ho fatto una denuncia. Ti è successo? È la stessa cosa? Sì, esattamente la stessa cosa. Ok Nina, la prossima. Vieni quando vuoi. Chi è questo? Ci vediamo domani, mio caro. Sono stanca morta a casa del viaggio. Devo riposare. In ogni caso, resterò qui per l'inizio della settimana, prima di visitare i dintorni con tuo padre. Ma perché avviene così? Così cosa? Ah, perché siete venuti così a caso. Ah, forse sì. Ah, grazie per le traduzioni. Pensate che questo è italiano vero, non è Google. No, infatti. Perché io mi rimango sempre assoluta dal fatto che su Itelite si capisce. Avremo il tempo di riparlarne. Quanto butta male. Ne parliamo dopo. O il classico messaggio, dobbiamo parlare. Ma non dovresti preoccuparti per questo. Tranquillo. Madonna. Oh, è inquietante. Sì. Ma, 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 tu non puoi, cioè, non capisci. È la madre di Yun. No, da cosa hai capito? Dal fatto che sono uguali. O dal fatto che lui la chiama mamma. O dal fatto che hanno incontrato degli stradi in un'ezzala strada e Yun sembra conoscerli. Illumina mia Erkel. Vai a dormire, te riparleremo domani. Ricorda sempre quello che dico. La notte, porta consiglio. E infatti voi vi separate. Sono rimasta un po' distante, mentre aspettavo che salisse sul taxi che la stava aspettando. A me fa sempre ridere, tipo, prende il taxi, ma dove deve andare? Sta città è un buco. Sì, dormire assieme bene nel cassetto sotto a letto di Yun nei dormitori. Quando il taxi è partito, portando via sua madre, Yun si è seduto sulla panchina alla fermata del bus. Sembrava deluso. Yun, tutto bene? No. Da cosa l'hai capito? Che non sta bene? Dalle lacrime o dal fatto che è un disperato sulla panchina che sta cercando una siringa? È mia madre. Lei? Mi sono messa in ginocchio a fianco a lui per vedere il suo viso. Che cosa è successo? Erichel, ma tu non stai flortando con chi stiamo flortando in storia? Tutti. Sì, ma... Ah, in questo Ruth, Priam. Ah, ok. Ah, ma ha ragione, va bene anche Yun piuttosto che Rudy, perché è cosa ormai. Sì, esatto, esatto. Però ho avuto un vuoto, tipo, che cazzo stiamo flortando in storia? Io sto questo. Con tutti e con nessuno. E' meglio il nessuno, in questo caso. Quando dicono, meglio sono lì che me li accompagnati. In questo gioco è verissimo. La cattiva compagnia potrebbe essere Erichel stesso, in realtà. Ah, è vero. Beh, c'è sempre un burrone. Lei e mio padre stanno divorziando. Ah, quindi lo sta già. Ok. Oh, no. Perché? Cos'è successo? La vita. Ma di solito... Di solito. Sì. Ma di solito, poi, in queste situazioni non si fanno, tipo, domande, tipo... Non si chiede i motivi, perché sono, tipo, personale della famiglia. Esatto, esatto. Tipo, non sono cazzi tuoi, se lui te ne vuole parlare bene, se no, no. Esatto. Devi scusarmi, può sembrare stupido. So che tantissima gente si separa, ma... Beh, è comunque la tua famiglia. Cioè, tu ci sei dentro fino al collo. Non vuol dire niente che altri ci separano. Poi, soprattutto, tu che sei molto legata a tua famiglia, cioè, chi sta? Mi sono seduta accanto a lui. Prima in ginocchio, poi seduta. Questa sta scottando alla fermata dell'autobus. Beh, tentiamo di consumarlo nel mentre facciamo un po' di ginnastica. Mi fa più male di quanto mi aspettassi. Mi dispiace veramente tanto per te. No, non capisci. I miei genitori sono i pilastri della famiglia. Coloro che uniscono tutti. Beh, io mi auguro tu abbia un rapporto anche con le tue sorelle. Non per forza passando per tua madre, cioè... Fino a me, infatti. Ma poi, scusami, ha detto, mi dispiace per te. No, non capisci. Cioè, sì, cioè... Vabbè, arrabbiato, poverino. Sì. Lasciamo che si sfughi. Anche Erkel, abbiamo capito che a cosa le persone fa cacare. Ci siamo, se neanche faccia degli squat, non siamo molto empatiche, probabilmente. In questo momento c'era l'Erkel, oh, poverino, il mio culo si sta rassodando. Oh, poverino, il mio culo si sta rassodando. Ciò vuol dire che per i prossimi prazzi non saremo più tutti insieme. Ciò vuol dire che... Sai come si dice? È meglio che siano separati e felici piuttosto che insieme miserabili. Merda, che frase brutta, ma che è che dice sta roba? Allora, Alexi con Rosa avrà cagato fuori, eh, ma tu non è che ci stai prendendo dentro, Erkel. Cioè, Alexi almeno ha cagato fuori... Con della motivazione. Sì, esatto, con senso. Cioè, è stato brutto, però almeno non potevi capirlo il motivo per cui hai reagito così. Tu Erkel sai proprio cagare, basta. Voglio vedere se c'è una frase a qualcuno del genere che non mi possa reagire. Cioè, non gliela dici subito, poverica puttana. No, deve ammetterlo lui. Sì, ma poi ascolti e basta, cioè, ta' zitta. Esatto. Ci sono situazioni in cui per dare conforto parlare non serve. Cioè, devi lasciare che la persona si sfoghi. Comunque, va bene, continuiamo. Erkel, prego. Continua con la tua sciampiaggine. Madonna mia, che schifo. Però devo ammettere una cosa, mi mancava offendere tanto i personaggi. Perché in Sweet Elyth sono quasi troppo senso. Cioè, all'ultimo episodio, cazzo, sembrava un episodio di una serie tipo... Me lo sono goduta. Però devo dire che preferisco l'entrata in scena sorpresa di Axel, piuttosto che dover sopportare tutto questo. Sì, anche. Però un po' di... Diciamo che giocare a Sweet Elyth è come sedersi sul divano e rilassarsi vedere un telefilm. Questo è tipo andare in palestra e sfogarsi. Solo che noi offendiamo con le parole questi personaggi bellissimi. No, mi dispiace. Non funziona così. Una relazione d'amore è qualcosa che si costruisce. Oh. Concordo. Però non andava detta adesso. E non così. No. E poi è un modo... Cioè, come si dice? È un proverbio. Sì, esatto. Non era il momento di usarlo. Lo scrivi nei Baci Perugina. Non lo dice a uno su una panchina e lacrime perché la sua famiglia sta aspettando a me la fa. No, cioè, ad esempio, se sono due vecchi che stanno parlando di una terza persona che non c'è in quel momento, lo possono dire. Sì. Non lo dice a sto povero Cristo che ha appena visto la sua famiglia disintegrarsi. Scusami. Eh, ma per cari... per Dio. Offri una cioccolata calda. Ma sì. Diggi, dai, magari io non vuoi andare dentro, che ne parliamo, ti ascolto. No, non lo so. Vuoi distrarti un attimo? Se vuoi facciamo qualcosa che ci distraiamo, non lo so. Che è un po' di squat. Esatto. Non lo so, però... Cazzo, Erghe, che schifo che fai. Oggi si separano tutti per un sì e per un no. Bisogna resistere alla prima difficoltà. Ma può essere che non sia la prima volta che abbiano incontrato delle difficoltà. Tu... Non ne sai nulla. Oh, sì, dai, giusto. Hai ragione, Yun. Hai ragione. Non ho mai visto Yun innervosirsi in questo modo. E c'ha ragione. Yun, sono triste nel vedere che questa situazione ti ha turbato in questo modo. Se ci metti un ma adesso, mi incazzo. Hai soltanto bisogno di tempo per realizzare quello che sta succedendo. Il male non ce l'ha messo, però sì. Diciamo che... Potevi andare peggio, Erkel. Potevi andare peggio. Dai, sì. Non capisci. I miei genitori erano l'esempio dell'unione. È l'unica coppia che è riuscita a resistere ad ogni tempesta. Beh, evidentemente no, però... Per ora è l'unica coppia che spacca sono il putto e... Esatto. Clementina l'arancia assassina, eh. Cioè, te lo dico. Clementina l'arancia assassina. Carolina la mucca... Ma perché si fanno tutte così? Lei è cattivo e qua. Esatto. Carolina. Clementina. No, Ambra era Ambra. Ambra... La pianta assassina. No, perché non faremo con l'assassina. Ambra la pianta, basta già così. Ambra la pianta. Anche Debra. Nella prima stagione avevano dei nomi che facevi fatica a prendere per il culo. Qua invece Carolina l'abbiata assassina. Clementina l'arancia assassina. Oppure, non so, l'arancia... Si sono sempre amati appassionatamente. Se dovessero lasciarsi, allora... Allora cosa? Allora non vedo come qualsiasi relazione possa resistere al mondo che le circonda. Oh, allora in realtà questa scena è fatta apposta se sei nel root di Yun. Perché in pratica ti dice... No, adesso faccio la vita del Don Giovanni, andrò a puttane tutti i giorni. Vabbè, allora vado a Lexi, ti sa consigliare benissimo. Esatto, esatto. Non è mai facile accettare dei genitori che divorziano, poco importa l'età dei figli. È normale che tu la stia vivendo male, Yun? Mi sento... Non so, non capisco perché. È normale che tu non capisca un cazzo in questo momento. È normale, ci sono delle cose che riguardano soltanto loro. Tu non c'entri niente. Sì, ma pensavo di conoscerli. Sembra a pezzi. Toglie sembra e metti una E a propria affermativa. È a pezzi. Ciao, poveretto. Vuoi che andiamo a bere qualcosa? Potrebbe tirarti sul morale. Oh, brava, Kerkel. Un po' di sale in zucca. No, voglio restare solo. A dopo. Dopo queste parole si è alzato. L'ho visto mentre si allontanava un attimo. È meglio che gli lasci del tempo. Sì, esatto, brava. Ho camminato verso la mia camera, trascinando i piedi. Mi sono buttata sul letto. Non c'è né internet, né rete, né niente. Oh mio Dio, dovrai leggere un libro! O parlare con Yelin. Oh, i tuoi neuroni si suicideranno. Mi sforzo di non pensare a Priya. Non appena ci provo, la sua immagine si impone nei miei pensieri e il mio cuore inizia a battere forte. Ripenso al nostro risveglio. Le sue curve sono così perfette. È una pervertita. Sì. Ma pesante anche. Perché? Perché ha messo sta frase? Tutte le cose, tipo ha degli occhi così belli, i suoi capelli così morbidi, la sua pelle. No, ha delle belle tette. No, esatto. Proprio. E se lei avesse potuto restare con me oggi, saremmo sicuramente finite a letto. Sarebbe potuta finire male. No, scusa. Se ti piace il suo culo, scusa, mi sento offesa. Se finivate a letto tu eri contenta. Sì. Cioè, togli... Sì, l'avrete fatto. Cioè, inutile girarci attorno. Sì, ma scusa, perché sarebbe finita male? Cioè, fatevate ginastica tutto il giorno e ne accorgerate manco che internet andava via e vivevate da Dio? Non so nemmeno come o cosa, devo smettere di pensarci. Oppure approfitta del tempo che hai e informati su come funziona tra donne, dato che... Spetti col cuscino. Cioè, nel mentre... Tipo Caglia, attaccato a un falo della sedia. Fa qualcosa, basta che non me lo fa vedere. Non me lo far vedere. Mi chiedo solo questo. Che schifo. Ho tirato fuori il telefono dalla mia borsa, con la speranza di vedere almeno una barra di connessione. Ma tanto, appena si riconnette la linea, inizierà a trillare come se non ci fossero domani. Appena senti... E' partito. Oppure sta morendo. O si sta ribellando, tipo trasforma. Esatto. Quando è nel secondo, e lì cade la scheggia nel cubo in cucina, e gli elettronesi ci comunque vanno a mangiargli casa. Uguale. Uguale. No, nulla. Sembra davvero che siamo quasi alla fine del mondo. Oddio, solo perché non puoi guardare Whatsapp, mettiti l'anima in pace. Che non lo guarda di base, in tutto ciò. E per contatto non risponde mai. I suoi genitori, oddio sei morta. Sì. Bene, vado a leggere un libro. Ah, ho ancora il giornale che io e Alex abbiamo preso poco fa. Poco fa, è passato un'intera giornata. Giusto, giusto, perché non era abbastanza quello che è successo finora. Andiamo avanti, andiamo avanti. Finalmente sono riuscita a leggere l'articolo nel suo insieme. Non è poi così terribile. Cos'è? Ti hanno confermato che le antenne sono morte e non è stato un attacco alieno, grazie al cazzo. Alcune reti private, sembra che funzionino. E le più grandi imprese della nazione sono fornite. Soltanto che per la popolazione è abbastanza drammatico. Tempo che però con le tre linee internet satellitari funzionano e le ditte hanno deciso di prendere quelle perché non lavorare. Il privato cittadino ha detto, uè, attacchete il cazzo per due giorni. Non sapendo cos'altro fare, ho continuato a leggere il resto degli articoli. Wow, cultura, non sia mai Erkel. Che diamine è questo, accidenti? Per baccolina, cos'è successo? Mi sono alzata improvvisamente dal letto. Oh no, oh no, oh no. Mi sono cagata delle mutande. Forse questo caso è vero. Alla fine del giornale c'era un piccolo riquadro dal titolo Press People. No, no, Presse People. Presse People. Presse People, le persone pressate. C'è una foto di me e Castiel mentre entriamo nel suo appartamento. Beh, è andata di culo. Nell'altro route c'era letteralmente il tuo culo. Il culo è al vento. Sì, perché diciamo che Castiel non possiede tendaggi. Esatto. Mettiamola così. Quindi le tue grazie erano al vento. Un'altra foto illustra il testo. Che foto sarà mai? Si vedono le nostre ome dalla finestra e il suo viso piegato sul mio. È successo tutto ieri sera. Eh, appunto. Eh, prima che la linea cadesse il fotografo è stato furbo, ha inviato tutto. È stato un genio, è fatto per il suo lavoro. Qualcuno che lo fa. Ah, questi giornalisti non hanno nient'altro da fare che svegliarsi all'alba per pubblicare questo genere di cose. Sì, è il loro lavoro. Ma tra l'altro non l'avrà neanche, non si è neanche svegliato all'alba. Probabilmente ha fatto notte per pubblicare questo articolo. In piedi, nel bel mezzo della mia camera, ho letto l'articolo tutto d'un fiato, con il cuore che batteva all'impazzata. News, il cantante del gruppo Crosstorm sembra aver trovato l'amore. Madonna mia, sembra aver trovato il pattume dell'umido che aveva scordato anni fa fuori da un liceo. Il celebre gruppo rock che ha iniziato la carriera in nostra città, che sta iniziando a farsi conoscere a livello mondiale, fa sul serio in termini di articoli shock. Ieri è stata organizzata una serata privata in onore dell'uscita del loro nuovo video, già più di 6 milioni di visualizzazioni su internet. Tuttavia il leader del gruppo ha avuto la sua eclissi prima degli altri membri del gruppo. E non era solo. Magari fosse stato solo. Magari avessimo avuto scelta. Magari fosse stata una taglia. Esatto. Una giovane sconosciuta, persa tra le sue braccia, l'ha accompagnato a casa sua per finire la serata. In due. Magari giocavano a scacchi, cosa ne sai? Ne fa, dicevo, ho fatto un pe, quindi gli scacchi non erano così scontati. Uno. Ah no, troppo eccitante giocare a uno. Ah, già. Probabilmente quest'articolo comporterà non poche delusioni, ma ancora è capire se è stata una notte occasionale o il preambolo per una grande storia. Ce lo diranno i giorni a venire. Ma cosa? Urgh. Ho strappato immediatamente il giornale, preso dalla rabbia. Accidenti. Respira. È un giornale di scandali. Nessuno legge questo genere di cose. Non è vero, lo leggono tutti. No, oppure il problema è che normalmente non leggerebbe il giornale, non leggerebbe il sito internet. Però essendo che il sito internet è caput, tutti non hanno un cazzo da fare. Quindi per di più hanno letto il giornale e avevano solo quello da leggere. Fortunatamente quasi nessuno può cedere ai social in questo momento. Con un po' di fortuna questo articolo passerà inosservato. Che carina, che queste false speranze, ma proprio. Hanno scelto le foto che lasciano pensare che ho passato la notte a casa sua. Ciò mi rende completamente folle. Io avrei detto incazzata nera, però. Sono dei bugiardi. Sono andata via circa due minuti dopo che venisse scattata la seconda foto. E vabbè, ma loro mica gliene frega la della verità. Esatto. Ho iniziato a calmarmi dopo aver fatto a pezzetti quell'articolo. Però questa scena sarebbe stata divertente vederla in illustrazione. Tipo procione incazzato. In ogni caso, non ho modo di contattare nessuno con cui poterne parlare. Devo calmarmi da sola. Ma è usare le gambe e bussare tipo alla porta di Alexi, Ciani, Morgan, più vabbè. Ce n'è di gente, eh. Ho aperto la porta più volentemente che potevo. Ancora sotto l'effetto della collera. Tipo lo fa che sia Ciani, perché è l'unico personaggio sensato che potremmo incontrare adesso. Pria? Io, scusa, è da stupidi. No, non c'ho niente da fare, vieni qua. L'ho trattenuta per la mano, prima che potesse fare marcia indietro. Cosa è successo? Tu, sei tu che dovresti dirmelo. No, ho letto un articolo di giornale, un po' speciale diciamo, e... Non ho smesso di pensarci in camera mia, dovevo venire a trovarti. Ho appena scoperto l'articolo anch'io. Come puoi vedere. Poi gli farei vedere il fatto che c'è carnevale in camera nostra. È successo qualcosa con Castiel? Lo sai, preferisco sapere le cose sinceramente, piuttosto che immaginare degli scenari possibili. Pria, ero con te stanotte, non è successo nulla. È vero, poi. Sì. Cioè, cazzo... Allora, però, potevi partire diversamente, Erkel. Però va bene. Cioè, da questo tempo capisco, tipo, che Pria non aveva neanche alcun diritto di farci questa osservazione, perché non si è fatta sentire per una settimana, è stata con la sua amica per una settimana, anche noi non abbiamo saputo cosa hanno fatto e non c'è un giornale scandalistico che ce lo rivela. E secondo me... Ecco. Non hanno mangiato la pizza. Non solo. Sì. Ecco. Un pensierino secondo me ce l'hanno fatto. Diciamo che le patate erano di casa. Sì. Mettiamola giù così. Quindi... Però sì, se volevamo chiarire subito, potevamo uscire un po' diversamente come frase. Ma va bene così, dai, capisco in tambe le parti. Mi dispiace, io... Io sono un'idiota. Le ho stretto la mano. No, non lo sei. Ma sembra che sei gelosa. Allora, diciamo che la vostra relazione è partita proprio al piede giusto per il fatto che tu, Erkel, non si è mai capito esattamente che cazzo ti piace, perché letteralmente eri confusa... Forse... Eri più confusa dell'essere confusa. Sì. Poi, quel tire molla di amica, non amica, telefono, non telefono, non è che ha aiutato. Quindi effettivamente Pria potrebbe avere qualche dubbio. Come tu potresti avere qualche dubbio sull'amica di Pria. Sì. Sull'amica di Pria. Quindi sì, non avete una gran solidità, diciamo. Non sono mai stata così prima d'ora. Sei tu che mi fai questo effetto. Ma, volendo essere totalmente onesta con te, sono andata da Cassia e la Beruntè. E... Perché lasci la I con i puntini? Effettivamente mi ha proposto di passare la notte insieme. Ho rifiutato, sono rientrata ed è là che ti ho trovato davanti alla porta di camera mia. E ti preoccupi, credi lei. Cioè, Cassia ci ha proposto di andare a bere un tè. Noi abbiamo accettato perché siamo amiche di Cassia. Esatto. E abbiamo un buon rapporto. Come lei amica con Cassia. Lei dovrebbe sapere che Cassia le offre i tè alle persone così. Come lei all'altra amica, con cui per di più aveva anche una storia. Noi ho un caldo e una storia non l'avevamo avuta. Esatto. Perché al liceo ce l'abbiamo con l'Armin. Il morto in questo avuto, quindi. Sono davvero un'idiota. In più, fino a prova contraria, non stiamo insieme. Puoi fare quello che vuoi. Beh, bello. Che bella frase per mettere giù un rapporto. Sì, non era esattamente quello che volevano sentirci dire. I genitori e gli un che si separano sono neanche quei migliori, non gli dico. No, hanno le idee chiare. Mi spiace. Mi sento davvero ridicola. Non lo sei. Lui è Erkel, vai tranquilla. Ma in realtà la situazione è ridicola. Ma non sei con tua sorella? Credevo che avesse la sua rappresentazione stasera. Sì, l'ho aiutata a ripetere tutta la giornata. Sono venuto giusto per rinfrescarmi le idee. Adesso vado subito. Ma dovevo venire a trovarti. Ma hai fatto bene. Bene, ti lascio. Passa una buona serata. Ci vediamo domani, forse? Sì, buona serata, Priya. Ma tipo dirle, vuoi che venga con te? Ti faccio compagnia. Ma penso che l'avesse già detto di no la mattina, tipo. Però poteva richiederlo, tanto per cominciare. Più che altro, quel forse, tipo, cosa vuol dire forse? Domani che cazzo hai da fare, Priya? Non lo so. Cioè, sembra che un po' così, cioè... Va bene, sì, non stiamo ancora insieme, però ci troviamo per parlarne, magari. Posso dimostrarti che effettivamente tengo a te e non come uno stupido giornale di uno sconosciuto dice il contrario. Esatto. Senza offesa Priya. Poi potessi un po' più credere a me che a lui, ma va bene. Comunicazione zero, drammi cento, perché funziona così. Bene, bene, continuiamo. Mi ha baciata timidamente sull'angolo delle labbra. Questo bacio ha avuto lo stesso effetto di un piccolo shock elettrico. Bello, come prima parlavamo del fatto che la arrotolarsi in ogni superficie, compri, adesso è un miracolo se Priya ti guarderà negli occhi. È uscita dalla camera, lasciandomi sola. Ecco, io in questo momento la classica scena, la vedi che cammina per il colno, io la inseguirei, la prenderei, tipo non lo so, gli bacia, fa qualcosa. Abbracciala, però dimostrali qualcosa, perché vederla che se ne va e basta è usceno. Ma infatti no. Dopo una doccia bollente per cercare di calmarmi, che è anche questa la classica tipica frase da Herkel, perché viviamo sotto docce bollenti, o fredde a seconda, perché o abbiamo docce bollente per calmarci, o docce fredde per calmarli bollenti spiriti, però il concetto è quello, le parole sono quelle. Mi sono messa a letto con la musica nelle orecchie, cercando di leggere il mio libro di Margaret Atwood. Mi sono addormentata con la luce accesa, e il libro tra le mani. Incubo? Sogno porno? O non abbiamo dormito? Sogno porno? Sogno porno? Sogno porno? Grazie a tutti.